Ha capito il momento, ha capito le difficoltà e mi è piaciuto molto sotto l'aspetto caratteriale. Tanto ragazzi, quando abbiamo giocato bene abbiamo perso, forse ci avete abbonato una partita, poi diventa che conta risultato. Oggi ho visto una squadra concentrata, una partita sporca, a tratti è stata complicata, nonostante stiamo cercando di migliorarlo di giorno in giorno, un campo che diventa pesante e complicato, però faccio i complimenti veramente a tutti, la dedica è per tutti, per tutti i tifosi della Lucchese, quelli che ci tengono veramente, quelli che sono appassionati per la società, il Presidente, i ragazzi, quindi è una dedica che faccio perché hanno passato un mese complicato, siamo passati da un'esaltazione di grandi prestazioni a un momento di, secondo me, di molta sfortuna negli episodi e anche di un calo, che sia fisico o mentale che abbiamo avuto.